Ma non contenti di questo, abbiamo anche inserito un incontro settimanale che può essere fatto o live, cioè dal vivo, con incontri che faremo nelle nostre strutture, nei parchi, in varie zone, oppure sempre contemporaneamente anche online. Ovviamente l'invito è quello di cercare sempre di incontrarci, perché, ripeto, stiamo facendo un'arte marziale. Quindi si può imparare un'arte marziale online? No. Si può sfruttare l'online per avere un supporto alla propria pratica, se sono già un praticante, oppure per incominciare a conoscere quello che è il sistema che è il Black Flag Wing Chun.